Ha chiesto di parlare la senatrice Bonino, ne ha facoltà per tre minuti. Sì, grazie mille signor Presidente del Consiglio, signora Presidente, colleghi. Noi sappiamo tutti benissimo perché questo dibattito finirà senza voto. E non tanto e non solo per le posizioni di insensate, francamente incredibili, di alcuni partiti dell'opposizione. Ma finirà senza voto per non esporre ancora di più la fragilità e la confusione che regna anche nei partiti della sua maggioranza. Ma ciò nonostante, comunque, lei si troverà al tavolo negoziale giovedì in una posizione di estrema debolezza. Perché i suoi omologhi, voto o non voto, purtroppo conoscono le divisioni della sua maggioranza. Ricevono note giornaliere dagli ambasciatori dell'Unione Europea a distanza a Roma. E, peraltro, divisione emersa drammaticamente nel voto al Parlamento Europeo. In più, Presidente, mi scusi, ma lei ci ha messo anche del suo. Per me resterà indimenticabile un Tg1 in cui lui disse faremo da soli. Se l'Europa non ci sta faremo da soli. Ecco, faremo da soli? No. Faremo da soli? Non si può. A meno che alcuni preferiscano scegliere Pechino e le conseguenze del caso. Signor Presidente, lei lascia ad altri questa guerra ideologica che io trovo insensata, autolesionista contro il MES. Perché anche le pietre oggi sanno che questo prestito di 37 miliardi arriverà senza altra condizione che non spendere bene di contare le risorse. Lei ha citato il testo del comma 16, lo possiamo ricitare in modo che la gente capisca se ci riesce. Invece negozi favorevolmente sui tassi e sui tempi soprattutto della ristrutturazione e forse sulla tipologia di spese ammissibili. Ma la verità è che tra BAE, MES, BCE, SURE, eccetera, oggi ci sono disponibili 1.700 miliardi subito per la ripresa. Questa è la verità. E non è, per favore, non voglio più sentire, lei non sia connivente, sull'Europa ci lascia soli. Basta, è una falsità, non è vero. In quattro settimane l'Unione Europea ha messo in moto tutti gli strumenti che poteva e se è possibile invece si concentri sul negoziato, sul recovery fund. E chiudo. Da federalista sarei felice che si accogliesse la proposta del Parlamento europeo che chiede appunto che siano nel bilancio del Parlamento europeo. Però credo che sia necessaria un'opera di verità ai nostri cittadini. Non è vero che l'Europa ci ha lasciato soli, non è vero che ci lascerà soli, non è vero che il MES è una trappola. Abbia il coraggio almeno di dire queste cose. Grazie.